Luca Serrali, vice sindaco della città di Cuneo, quest'oggi qui a Torino per la presentazione del Torneo delle Regioni. Torneo delle Regioni che farà tappa anche in provincia di Cuneo, anche nella città di Cuneo. Si giocheranno alcune partite del Girone A sul sintetico del Parco della Gioventù Alessandra Witzel. Sicuramente un orgoglio per la città poter ospitare e far parte di questo Torneo delle Regioni, che è un evento veramente molto importante. Sì, assolutamente. È un orgoglio poter ospitare queste partite, ma è anche un'opportunità importantissima per la nostra città che da sempre si fa conoscere per interventi importanti a livello sportivo, un po' meno forse per il calcio. Ahimè, però, in attesa magari di tempi migliori abbiamo questo momento che assolutamente andrà a coinvolgere non soltanto la cittadinanza, ma tutti i tifosi della nostra città. Un grande sforzo organizzativo per tutta la Regione, ma anche per le città coinvolte. Quindi, insomma, ci siamo perché adesso manca un mese e con la presentazione di fatto inizia il Contro la Ravescia. Sforzo sì, ma quando si sa quali possono essere le potenzialità di un evento ci si mette veramente in quattro per poterlo realizzare al meglio e per poter dare appunto la massima visibilità e la massima realizzazione del punto del Torneo.